Allora, non so come potrò farlo, c'è un gramatico sensibile, ma adesso non è che appartiene più di tanto. Vabbè, adesso vedrò come è. Dai, non ho più mostri di su. Dai. Bene. Dai, è stato efficace questa. Oddio, guarda un po' colpo? Tu sei lì per lo sedici? Ok, è ufficiale. Sei una bestia. Non so come è un po' più. Non so come è un po' più. Non so come è un po' più. Adesso è un pessimo, è questa linea ancora meglio come cosa. Adesso, sono andato un po' colpo. Sì, sa. Ehm... Ah, buono. Ehm... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.